Bella a tutti qui a Treface che vi parla e molti di voi mi hanno chiesto come è il nuovo set o meglio i nuovi set di livello 73 su solo leveling rise Per prima cosa metteremo a paragone i due set quindi vediamo un set livello 55 con un set 73 e capire che cosa cambia effettivamente Per prima cosa noteremo ad occhio che le differenze stanno nelle main stat ossia le prime statistiche che appaiono Quindi difesa extra per quanto riguarda la corazza abbiamo 1700 su un 1294 quindi parliamo di quasi 400 punti di differenza Il che va ad aumentare notevolmente quello che è il potere di un qualsiasi nostro personaggio o dello stesso GV Questo fattore quindi sarà molto importante per quanto riguarda i pezzi però di tipo viola Invece se noi andiamo nella modalità normale avremo a che fare con un volcan molto più forte da dover sconfiggere Non sarà fattibile per quanto riguarda i free to play ma solo per chi paga Però i pezzi droppati saranno d'oro il che vuol dire che quello che noi abbiamo visto ossia il range di differenza Da un pezzo viola 73 più 20 a un pezzo 55 dorato in realtà è inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere un 73 dorato Quindi avremo un range di differenza maggiore Questo vuol dire che i pezzi del livello 73 sono nettamente superiori a quelli del 55 E' molto importante quindi capire che questi set ci permetterebbero di aumentare notevolmente le statistiche base del nostro GV Come l'attacco, percentuale critico, danno critico ma la stessa cosa varrebbe anche per gli altri Hunter Non contando il fatto che comunque sono set farmabili solo settimanalmente Allora vi domanderete se il set del 73 è migliore rispetto a quello del 55 anche se ha le statistiche sbagliate Questo purtroppo, vi rispondo già da adesso, non è possibile Infatti l'unico modo affinché un set 73 sia più forte di un 55 è che anche le sue statistiche secondarie principali siano uguali a quelle del 55 Ossia come abbiamo già impostato il nostro GV Hunter Questo vuol dire che lui supererebbe l'altro set esclusivamente di statistiche Anche perché c'è una piccola pecca all'interno di questi nuovi set Infatti se andiamo all'interno dei nostri bonus abbiamo un set 2 di 2, un 4 di 4 e un 8 di 8 Vi dico sin da subito che l'effetto 4 di 4 di un qualsiasi di questi set non vale la candela Ossia non è così forte Quindi sarà molto importante avere il 2 di 2 Potremo anche fare un set misto, un 2 pezzi più un 2 pezzi di quello del 55 per avere una situazione ottimale O altrimenti dovremo puntare interamente a un 8 di 8 per avere il massimo potenziale di questi set Per concludere quindi sarà necessario elaborare questi set come i vecchi set Quindi sarà molto importante averli con le statistiche giuste Come potete vedere questo personaggio si ritrova ad avere il set nuovo Ma le sue statistiche sono inferiori a quelle dell'altro Gmw E quindi il bonus all'interno di questo set 4 di 4 non è minimamente superiore a quello che invece è un buon set 55 massimizzato in statistiche Detto questo come sempre vi ringrazio della visione, ci becchiamo alla prossima, ciao a tutti